Non c'è mai stato un poliziotto nero qui. Tu potresti essere l'uomo che crea un'apertura in questa città. Salve, il mio nome è Ron Stalwart. Con chi parlo? Sono David Duke. Il mago del Ku Klux Klan, quel David Duke. Dio! A quanto pare. Che posso fare per lei? Beh, visto che me l'ha chiesto, io odio i neri. Odio gli ebrei, i messicani e gli irlandesi, gli italiani e i cinesi. Ma soprattutto odio a morte quei vermi neri, lo giuro su Dio. E chiunque altro non abbia puro sangue bianco ariano che gli scorre nelle vene. Sono felice di parlare con un vero bianco americano. Dio benedica l'America bianca. Il KKK sta progettando un attacco. Come proponi di condurre quest'indagine? Ho stabilito un contatto telefonico. Serve un agente bianco che faccia a me quando si incontrano di persona. Sei per la razza bianca, Ron? Oh, altro che. Così diventa un'azione congiunta. Ron Stalwart. Ce la puoi fare? Con il bianco giusto tutto è possibile. Da quando in qua fanno dirigere un'indagine a un novellino? Ah, giusto. Da mai. Ok. Diventa suo amico. Facciamoci invitare. Che attività svolgete? Bruciamo croci. Facciamo marce. Si prospetta un grande anno per noi. Fai troppe domande. Sei sotto copertura per caso. Dobbiamo unirci per combattere il razzismo! Ti interessa la liberazione dei neri? Potere al popolo. Tutto è il potere al popolo. Potere al popolo! Esatto, sorella. Per te è una crociata. Per me è un lavoro. Tu sei ebreo. Quest'odio non ti fa rodere un po'? Fai il test della verità come ebreo. Perché ti comporti come se non corressi rischi? Te lo dico io. Sta arrivando una guerra. Cavalieri del Ku Klux Klan. Eccoci. I fratelli Stalwart. E' un momento fortunato. Prima l'America. Prima l'America. Prima l'America. Se avessi saputo che era un incontro del clan non avrei accettato questo fottuto. Per me è così. Grazie a tutti